Ben trovati nell'angolo dello sport. Il Pescara si sta preparando per la partita di sabato contro la Ternana e si sta preparando in questo ambiente che vedete qui alle mie spalle. Anzi se il regista vuole, mi può mettere in evidenza un attimo, eccolo qui in modo che vedete, è un complesso dove c'è un campo da calcio e poi c'è una piscina e poi tutto il resto. Insomma è un ambiente delizioso, diciamoci la verità. Adesso non è che devo fare la pubblicità alla Mancini Parcotella, assolutamente. Però voglio dire che ci sono tutti i presupposti logistici perché il Pescara possa ritrovare la sua tranquillità. Ma la tranquillità non va ritrovata soltanto perché sta in un ambiente bello, gratificante. La tranquillità viene, dovrebbe venire a mio parere, dalla consapevolezza di aver fatto tutto quanto è possibile fisicamente, tecnicamente e psicologicamente per far crescere il livello globale della squadra e poter avere un risultato positivo già da Terni. Dico già da Terni perché non basta poi Terni. Bisognerebbe fare il risultato anche nelle prossime partite perché le altre squadre incalzano. Se pensate che meno di 40 giorni fa il Pescara si trovava a guardare gli altri dall'alto in basso, non considerando Crotone e Cagliari che stanno facendo un campionato a sé, però il Pescara dalla terza posizione, nove punti di vantaggio sulla quarta, si favoleggiava sul fatto di poter dare dieci punti alla quarta, non solo, ma anche di poter riprendere il Crotone, vuol dire che in questi 40 giorni qualcosa non è stato fatto. O è stato fatto male oppure c'è qualcosa che ci sfugge. Dice Oddo che la squadra è sana, che lo spogliatoio è perfetto, che chi parla di rottura all'interno dello spogliatoio mina soltanto la forza interiore della squadra. Non è nel mio caso e quindi non vado a sfriguliare questo tipo di rapporto, però faccio una valutazione ed è una valutazione dettata dai numeri, una squadra che prende due gol in media partita e vuol dire che qualcosa non va. Cosa è che non va? Soltanto la difesa? Ma no, perché in definitiva chi sa di calcio sa perfettamente che ci si difende globalmente, cioè una fase difensiva parte già dal centrocampo, senza voler coinvolgere anche gli attaccanti, ma già dal centrocampo. Quindi in definitiva Oddo deve lavorare sulla testa di questi ragazzi. Ma la testa è rappresentata anche dalla società, una società che ha le sue manchevolezze, una società che sbaglia la convocazione dell'Assemblea, una società che è proiettata verso certi fini suoi, che non sono quelli sportivi ma sono soltanto mercantili, una società che perde per strada dei soci importanti, una società che per strada vede così frastagliarsi una situazione che sembrava fatta di roccia invece di sabbia, allora vuol dire che anche la società sta sbagliando e deve vederle le sue situazioni. Mercoledì prossimo ci sarà l'Assemblea dei Socii, si riguarderanno faccia a faccia Daniele Sebastiani, Danilo Iannascoli, Gabriele Bancoschi e gli altri, il rappresentante di Mesa, Druda. Sì, l'incontro è per la ricapitalizzazione, ma non solo. Dovranno rivedere e ristudiare le posizioni della società anche nei confronti dell'esterno, questa società che pecca di comunicazione, questa società che non ha capito che l'amministrazione di una società calcistica è molto diversa dall'amministrazione di una società di leasing o di vendite di auto o di affitti di auto a lunga scadenza, sono delle situazioni completamente diverse, sono delle strategie diverse. Eppure il ragionier Sebastiani ha studiato all'istituto tecnico Tito Acerbo, con il professor Di Francesco ha fatto delle esperienze, avrebbe dovuto assimilare e imparare qualcosa, ma probabilmente della ragioneria ha voluto assimilare soltanto gli aspetti più concreti, per non dire una parolaccia, ma gli aspetti che fanno il guadagno, ma che non fanno l'organizzazione di una società calcistica. Bene è tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento particolare al regista, il collega Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.